Quello che è accaduto all'ospedale San Giacomo di Roma è un evento che assolutamente non può essere dimenticato, non può essere trascurato e dovrebbe essere un punto di attenzione nella campagna elettorale quando prenderà veramente il via per le elezioni del nuovo sindaco di Roma perché si dovrebbe prestare, io dico ai cittadini che si dovrebbe prestare attenzione soltanto a coloro che includono nel loro programma la riapertura degli ospedali. Ho vissuto a lungo al ritorno negli Stati Uniti quando ho iniziato la parte della mia vita politica italiana nel periodo in cui era diventato straordinariamente di moda l'idea di dire abbiamo tagliato 250 letti, si è fatto economia nell'ospedale tra l'altro dove abbiamo tolto un'intera sezione, è cominciata quella tendenza che poi ha portato alla chiusura del Fornanini. L'idea di chiudere o ridurre la sanità era diventato una specie di mantra politico che accreditava misteriosamente presso i cittadini devo dire, accreditava coloro che chiedevano voti per una ragione o per l'altra. Io ricordo la sequenza del San Giacomo. Primo punto, il San Giacomo, ospedale segnato da una tradizione e da una fama di grande ospedale metropolitano, di una grande città, aveva un ruolo nel centro storico di Roma che era insostituibile per due ragioni. La prima per l'antichità dell'evento. Questo ospedale è qui del 1468 e viene preso ed è stato trattato come se fosse stata una costruzione di vent'anni prima, come se si trattasse di un ritocco metropolitano nel chiuderlo. Il secondo è che è stato fatto in due tempi assolutamente assurdi mai spiegati ai cittadini. Primo, questo ospedale che funzionava molto bene e che era addirittura ai primi posti in Europa, in alcune sezioni delle sue attività cliniche, questo ospedale, ne è stata annunciata improvvisamente la chiusura il primo ottobre. Una cosa come il ritiro dell'Afghanistan, questo ospedale pienamente funzionante e assolutamente regolarmente in grado di svolgere e di svolgere al meglio le sue funzioni, è stato indicato come in procinto di essere chiuso dal governatore del Lazio. Questo fatto, ricordo lo stupore che ho avuto da questo fatto, perché essendo deputato del PD avevo delle buone relazioni con il presidente della regione Lazio, Marrazzo, che era del PD. Nel frattempo era accaduta una cosa curiosissima, che rimane tuttora senza spiegazione. Marrazzo, governatore, nominato ed eletto dal PD a capo della regione di Roma, viene nominato anche e amministratore dello stesso ospedale San Giacomo, che era la sua responsabilità in quanto governatore. Quindi lui era l'uomo del partito di governo di quel momento e l'uomo del capo dell'opposizione di Berlusconi in quel momento. È stato Berlusconi, me l'ho detto lui stesso, è stato Berlusconi a chiedergli di chiudere questo ospedale per ragioni di economia che erano indispensabili. Perché per la salute di Roma si spendeva troppi soldi. Abbiamo poi visto nel fenomeno dell'epidemia quanto falsa fosse questa affermazione, ma veniva fatta. A me è capitato di incontrare, nella traversa di fronte all'ospedale, di incontrare Marrazzo, di affrontarlo su questa cosa e di contestargli l'idea che si potesse chiudere quell'ospedale con quella storia, con quella fama, ma anche, e quando dico storia lo intendo in due sensi, la storia di Roma e la storia dell'ospedale, nel senso in cui funzionava l'ospedale, aveva due o tre situazioni che venivano considerate tra le migliori d'Europa, seconda o prima in alcune situazioni. mi è stato detto che uno si doveva fare per restare nei conti, per economia e l'idea che si dovesse fare economia sulla salute già allora mi sembrava pazzesca. E in secondo luogo esisteva questa funzione doppia del governatore PD della regione Lazio, il quale a sua volta era il mandante della destra per ciò che si doveva fare di quell'ospedale. È una delle più squallide e tristi storie italiane, anche perché, purtroppo, l'impegno dell'antica proprietaria del palazzo, della famiglia Salviati, non è stato sufficiente a persuadere una parte almeno modesta dell'opinione pubblica, quella dei grandi giornali. non è stata sufficiente a fare in modo che i grandi giornali prendessero posizione e l'Italia di quel periodo, infatti, è priva di posizioni di opinione pubblica sul taglio della salute che è proceduto inesorabile dalla Lombardia alla Sicilia con i risultati che abbiamo visto durante l'epidemia. Io vedo tre problemi intorno a questo fatto del San Giacomo. Il primo è la storia intesa come storia patria, il fatto che un cardinale doni un grandissimo edificio e bellissimo edificio alla città di Roma purché rimanga ospedale. Poi vedo la storia dell'ospedale, che è una storia tra le più belle dei grandi istituti ospedalieri italiani e che è stata spazzata come se fosse irrilevante. E infine vedo la città. La città di Roma è stata mutilata, mutilata di un pezzo importante della sua attività pubblica nel settore della sanità. Ecco, questi tre peccati originali sono gravi perché sono di sinistra, fatti da un governatore, da un capo di amministrazione della regione di sinistra, perché nessuno in Parlamento. Non sono riuscito a ottenere l'intervento di nessuno in Parlamento in quel periodo. andando su e giù per le scalette della camera di cui ero parte, della camera degli deputati, mi trovavo specialmente i deputati eletti a Roma a dire sì, ma a me che importa? Non è una cosa così importante. Abbiamo ben altre cose da fare per poter vincere queste elezioni. noi abbiamo bisogno di voti e tagliare porta voti delle affermazioni di questo genere. Non ho ottenuto attenzione di giornali, tranne quello su cui scrivevo in quel momento, ma perché ci scrivevo io e solo nella parte in cui scrivevo io. E purtroppo non sono riuscito in un tentativo che insieme a molti medici e insieme, certamente per esempio al dottor Bifferali che aveva in mano la cardiologia, ai principali personaggi di questa rilevante istituzione medica, non sono riuscito a scuotere l'opinione pubblica del quartiere. Non mi è riuscito pure organizzando cortei intorno al San Giacomo e intorno alla piazza Augusto Imperatore per avvertire che il San Giacomo stava per essere chiuso, non sono riuscito a mobilitare l'opinione pubblica. Di conseguenza purtroppo la mancanza totale di presenza politica e la mancanza sfortunata di presenza pubblica hanno fatto sì che la chiusura potesse compiersi. E la fine di quell'ottobre è stato un trasloco triste, assurdo e già totalmente incomprensibile allora, ben lontani dalla pandemia come eravamo o dall'idea che l'Italia potesse essere travolta da un'epidemia, come è accaduto più tardi, perché a molti appariva assurdo tagliare la sanità in una città che ne aveva appena abbastanza per poter far fronte a una metropoli che diventava sempre più metropoli. Si tenga conto che l'ospedale San Giacomo era anche l'ospedale, questo è importantissimo, lo si è visto con la pandemia, era anche l'ospedale del turismo, cioè tutto il turismo che si calcola a milioni in questa città affluiva naturalmente come affluisce negli acquisti e nelle altre attività cittadine, affluiva al centro e dal centro ogni esigenza di questo popolo in più che Roma ha sempre avuto finché ha funzionato bene che aveva il suo ospedale in quel punto e in quel momento. E se qualcuno avesse tenuto un quaderno saremmo pieno di storie di stranieri, ma in particolare di americani, che ci raccontavano come erano stati trattati, che tipo di assistenza avevano avuto e come erano guariti facilmente bene, cosa che non gli sarebbe accaduta pensavano nei loro stessi ospedali. Eravamo pieni di storie di quel tipo lì e addirittura fieri di storie di quel tipo lì, non sono servite a niente. La politica non l'ha voluto sapere, l'opinione pubblica non l'ha voluto sapere, il giornalismo non l'ha voluto sapere e abbiamo perduto il più importante punto di qualifica del centro storico romano, non sul versante della visita alle antichità, ma sul versante del praticare ancora con grande qualità e grande livello quella che era un'antichità diventata contemporaneità nella città di Roma. Grazie mille! Grazie.